Inflazione, questa parola così che ricorre sui giornali, sui telegiornali, ma anche sui nostri diposti nei conti correnti. Un'elaborazione fatta dall'ufficio studi della CGA che poi vi riporto dice che per ogni nucleo familiare in Italia costerà mediamente 6.338 euro. L'inflazione calcolata dall'ufficio studi è del circa del 15 per cento, quindi una patrimoniale aperte di 164 miliardi di euro. Qui riporta per ogni regione quanto è l'importo. Un esempio è 30 anni fa, l'allora governo Amato tra 9 e 10 luglio fece questo prelievo del 6 per mille sui conti correnti nella notte. Alle famiglie italiane costò 5.250 miliardi di lire, ovvero 2,7 miliardi di euro. Attualizzando questi importi il prelievo si attesta a 5,3 miliardi di euro. Praticamente un sacrificio economico 31 volte inferiore a quello stimato dall'ufficio studi della CGA, ovvero i 163 miliardi, 8 valutati nel bienio 2022-2023. Conoscere per decidere e proteggere il proprio denaro è possibile. Alla prossima!